salve care amiche ed amici che mi seguite e in modo particolare salve a te claudio wolf alias claudio show mi ritrovo ad aver parlato fino adesso ma mi accorgo che sprecher stava in pausa e quindi cercherò di ripetere il programma in questi giorni è venuto a mancare Dario Fo ai 90 anni si è spento un grande artista e l'evento ha riportato in mente mi ha fatto ricordare un'alentota del passato ai primi anni 80 forse 80 82 con la scuola andavamo in gita siamo andati a trovare Pertini al Quirinale era un arzillo anziano che diceva eh giovani voi siete giovani e non è vero e per dinci e io sono stato partigiano e non è vero e ho fatto la resistenza e non è vero ci aveva l'abitudine di intercalare con un non è vero come se inconscientemente si volesse smentire da solo e sono vecchio e non è vero poi siamo andati a vedere credo che con la gaspera stampa che stava nell'Azza nell'80 82 una performance teatrale di Dario Argento e Franca Rame dell'evento non mi ricordo niente perché era un largo monologo ma a un certo punto mi ricordo come Dario Argento e Dario Argento e Dario Argento e Dario Argento sbrottò e disse adesso basta non ci interrompiate non ci interrompete più se no smetto la rappresentazione che poi era un monologo tra lui e Franca Rame perché dal punto in cui osservava un mio compagno di scuola o di un'altra scolaresca che stavamo lì fra vari studenti gli sembrò che Franca Rame stesse nuda o seminuda invece c'aveva una calzamaglia color carne rossa e disse no Dario Focon citato noi abbiamo rappresentato quest'opera per tutta Italia in giro per il mondo per l'Europa è una cosa seria prestate attenzione e continuò a recitare fino a che mi sembra che si interruppe e ce ne andammo o perché il tempo a disposizione lo considerò terminato oppure perché si offesse del tutto comunque lui ci disse basta con queste insinuazioni qua stiamo lavorando per voi lo facciamo a titolo gratuito per darvi cultura per darvi istruzioni e c'era sempre invece si vede che gli scolari a quell'epoca volevano diversione volevano commedia c'era sempre un sottofondo composto da ridollini e da risoligni risatine ha 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 poi qualcuno insinuava qualcosa si rideva quindi massima distrazione infatti io non mi ricordo un cazzo di quello che hanno interpretato poi sia come si accommiatarono da noi e noi ce ne andammo ricordo tutt'oggi che nel pullman si discuteva la nostra professoressa di lettere e qualche alunno che si interessarono al caso se franca rame stava seminuda nuda e la professoressa di lettere ci disse della prima o seconda media inferiore no c'aveva una calzamaglia e hai capito dario adesso è morto ai 90 anni questo se è successo negli anni 80 nell'ottanta sono 80 90 2000 2010 36 anni fa dario fo aveva 58 anni io l'ho visto poco a dario fo e di persona solo in quell'occasione di cui non mi ricordo nulla di quello che ha fatto ho detto ma si incazzò veramente è forte perché non solo gli studenti la nostra scolaresca le altre committive di studenti disco di scolari della seconda media eccetera rumoreggiavano ridevano e poi qualcuno avrà insinuato che franca rame stava nuda franca rame è morta anni fa dario è morto da giorni e io volevo fare un video e niente adesso faccio questa trasmissione perché a volte la morte di un grande artista si fa rievocare i ricordi che magari erano assopiti ma ma divertito molto ricordare quel quelle scamotage quell'evento proprio sbraito si allontano dal luogo dove recitava si avvicinò al bordo del palcoscenico e disse basta con queste cose non insinuate più niente noi abbiamo rappresentato a livello internazionale questa scena che poi non è che stavano vestiti teatralmente stavano vestiti normalmente perché si vede che gli sono arrivate queste insinuazioni alle orecchie che franca rame stava seminuda invece invece c'aveva una strana uno strano decoltè una strana calzamaglia di un colore certo che visto da lontano dalla prospettiva di quello studente che ha fatto la sua osservazione sembrava che non avesse nulla addosso e poi mi ricordo appunto di un'altra gita scolastica che siamo andati a trovare Sandro Pertini al Quirinale ci ha accolto benevolmente e ogni cosa che diceva intercalava e non è vero è che poi parlava tantissimo diceva tante cose parlava uno a uno agli studenti gli parlava uno a uno e ogni cosa che diceva ebbene e non è vero e io mi ricordo quando ero giovane come voi e non è vero che erano anni difficili non è vero ebbene e io lottai per la libertà e non è vero e io già quando ero giovane studente e non è vero e sembrava per certi versi anche Mike Buongiorno soprattutto negli ultimi anni e non è vero che lottai e non è vero per la libertà e feci partigiano e non è vero beh Sandro Pertini ci aveva quasi l'età già a quell'epoca di Dario Fo però che cosa dopo aver ascoltato vabbè che ogni tanto ci pensavo a quei ricordi del passato ma adesso che ho ascoltato che è morto a 90 anni io mi sono ricordato che ho visto Dario Fo dal vivo quando aveva 58 anni di molto non è che è cambiato però che cosa no? come sono i ricordi? beh questo è tutto per oggi cari amiche ed amici rinuovo i miei saluti al nostro amico Claudio Wolf in Youtube mi sembra che si chiama Claudio Wolf in Facebook e Spreker Claudio Show e in Google Plus e saluto anche tutte le nostre amiche ed amici di RCD Radio Calcio Dilettanti grazie per menzionarmi e grazie per seguirmi era da molto che non facevo un radioprogramma volevo parlare di Dario Fo in Youtube ma niente ho dato la precedenza a un altro argomento se vi va di vedere il video l'ho già caricato ne ho caricati due per esattezza e invece colgo l'occasione di poterlo fare adesso tanto ho ancora 4 minuti e mezzo a disposizione ma penso che mi sono espresso sul tema a sufficienza quindi non mi crea un problema che Spreker abbia ridotto il tempo a disposizione dai 30 minuti ai 15 d'altra parte sono disoccupato non posso abbonarmi ma se uno sa quello che deve dire se gli fa bastare ed abbondare i 15 minuti quindi grazie di tutto di seguirmi e alla prossima saluti dal vostro Saint Ingen